Nuovo appuntamento in piazza per Raffaele Pesce e nuovo inatteso bagno di folla che conferma la crescita della proposta civica che sta scompaginando gli equilibri di questa campagna elettorale. Con la sua squadra dei liberi e forti l'avvocato agropolese ha spiegato le ragioni di un cambiamento possibile che fa leva su una presa di coscienza della proposta alternativa rappresentata dal movimento civico da lui guidato. Si sono alternati sul palco professionisti e giovani, tutti con idee chiare e precise sul futuro della città. Alessandro Rizzo ha illustrato le esigenze del bilancio comunale, del PNRR, di una nuova visione per l'unione dei comuni. Daniela Cuona ha toccato il cuore dei giovani e del loro giusto rifiuto verso la politica vissuta per mero interesse personale. Roberta Morrone si è soffermata sugli scempi ambientali che hanno devastato il territorio. Davide Zammarrelli ha parlato di ambiente ed associazionismo. Nico Caruccio di una diversa idea di turismo e degli attrattori culturali. Riccardo Milillo di sicurezza e legalità. Raffaele Pesce, a suo agio nel ruolo di presentatore della sua squadra, ha poi replicato alle accuse e alle elezioni giunte dal palco domenica sera, riprendendo Franco Alfieri e il segretario Dem Modestino Rosiello per i toni offensivi usati nei loro interventi. Nella qualità non di semplice aderente ad un partito, non di semplice cittadino, ma la cosa grave da segretario di un partito, del primo partito di Agropoli, ci invita, non è che ci invita, dice ci manderà a fare il bagno, manderà a me e agli altri colleghi che hanno avuto la forza e la faccia di candidarsi a sindaco contro questo tipo di visione della politica, dicono che ci manderanno a fare il bagno. Una caduta di stile che trovo nel 2022 veramente di cattivo gusto, ma dato che io ho una coscienza pulitissima e a posto, sto in pace con me stesso per quello che ho creato e quello che ho creato sono loro e siete voi, io a mare ci sto andando già e quindi perché sto tranquillo, non aspetto che mi ci mandino, ci vado e vado, sono costretto a andare, come diceva un amico giornalista oggi che saluto, sono costretto a andare, non posso andare in posti bellissimi, deturpati dalle amministrazioni che hanno gestito negli ultimi anni Agropoli, dove sarei andato, ma devo andare nei pochi posti rimasti di Agropoli che sia per volontà che per incuria delle precedenti amministrazioni sono lasciati nella disponibilità di noi agropolesi. Pesce ha ribadito l'assoluta alterità e coerenza del progetto civico di Liberi e Forti, invitando i cittadini ad un ultimo sforzo per portare la coalizione al ballottaggio, sostenendo la sua persona e le liste a lui collegate. Invito tutti a rafforzare le due liste che mi rappresentano e che rappresentano il Movimento perché è fondamentale, sappiamo bene che nei paesi sopra 15.000 abitanti c'è la possibilità di fare il voto disgiunto e io ringrazio tutti per questi attestati che ricevo quotidianamente, ma vi invito a votare queste persone, persone reali che mi hanno seguito volontariamente, che non ho dovuto sollecitare più di tanto e che fanno parte di una visione diversa della politica, quindi votate liberi e forti con una croce sul simbolo e libertà e partecipazione sulla croce sul simbolo e ponete il nome dei consiglieri che ritenete validi, consigliere uomo, consigliere donna o solo un consigliere, è possibile anche questo, una lezione di voto soltanto, però ricordiamolo, preferibile il doppio voto, uomo donna o donna uomo, ma votiamo le liste, rafforziamo questa possibilità per il paese di cambiare le cose, di dare un'altra impronta, un'altra immagine anche fuori, volete essere amministrati da chi prende ordine o da chi è libero la mattina di alzarsi e pensare a quello che deve fare da sindaco?